Tutto è successo poco prima delle nove di giovedì a Sant'Anna di Chioggia. La giovane conducente della Citroen ha perso il controllo dell'auto che è finita prima con le gomme sull'erba, ha abbattuto una centralina elettrica della linea ferroviaria ed è poi scivolata ancora finendo con l'anteriore oltre il primo binario. Il traffico dei treni della linea Venezia-Chioggia è stato subito bloccato. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere l'auto e metterla in sicurezza. La Polfer e i tecnici delle ferrovie per il ripristino della linea. Nessuna conseguenza per l'automobilista.